C'era una volta una specie di proverbio che diceva l'Epifania tutte le feste le porta via. Quest'anno la configurazione del calendario consente di prolungare un po' questo tempo in cui non c'è la scuola e tante attività anche produttive non sono aperte. E poi proprio questa sera le comunità orientali ortodosse celebrano il loro Natale. Anch'io cercherò di essere una presenza almeno di condivisione. Quindi le feste l'Epifania quest'anno non le porta via. Peraltro sono state delle feste un po' così così, dato il gran numero di coloro che sono ammalati o di coloro che per cautela o per quarantena hanno celebrato questi giorni in un modo un po' dimesso. Ecco, allora io desidero invocare la benedizione del Signore perché la festa del Natale, la gioia della manifestazione del Signore possa accompagnarci e sostenerci, soprattutto sostenga coloro che sono malati, soprattutto sostenga i sanitari che sono dedicati con grande sacrificio alla cura dei malati. Per tutti desidero invocare la benedizione del Signore e che questo incontro con il Signore ci renda cittadini di questo tempo pronti per ogni opera buona, ci convinca a quei comportamenti ragionevoli, a quelle attenzioni che possono contenere il diffondersi del virus e preparare un contesto sereno in cui la nostra vita sociale, le nostre attività, i nostri impegni si possano svolgere con intensità e serenità. Per tutti invoco la benedizione del Signore.